Salve, carissimi visitatori e panchettari. Il bello del Ciber Paruk non è solo literatura, foto, film e musica, ma una filosofia artistica e stupefacente sulle assurdità della nostra esistenza siderale e autodistruttiva, che ai margini degli impossibili ci dà non solo la sensazione allucinante, ma anche nuove percezioni oltre l'immaginabile. Godetevi le storie di fantasmagoria senza pietà in un autoprocesso alla vostra coscienza, per crescere in un attimo solo e senza frontiere astrali e multiversali. Radio Astral Fly 2015, Exadeus Pro ripreso da Wikipedia. Tratto dal libro della parigina Simone Well, 1934. Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale. La buona volontà illuminata degli uomini che agiscono in quanto individui è l'unico principio possibile del progresso sociale, bisogna tuttavia orientare questa buona volontà nel campo delle trasformazioni concretamente praticabili. Il resto è pura velleità. Ecco il ruolo cui accennammo in nota dell'ideale come limite, definire le condizioni oggettive che consentirebbero un'organizzazione sociale senza oppressione, studiare la strada concreta per avvicinarsi ad un tale sogno. Questo farebbe della politica una sorta di lavoro, laddove, sin qui, è troppo assomigliata al gioco o alla magia. Ogni esperienza storica di organizzazione sociale è stata connotata dall'oppressione. Di converso l'uomo è privo di oppressione solo quando viva in modo del tutto primordiale e solitario la propria lotta per la sopravvivenza, avendo quale unica, essenziale, controparte dialettica la natura. In compenso è del tutto assoggettato a quest'ultima, e la divinizza. A mano a mano che l'umanità si sviluppa, si affranca progressivamente da quel vincolo di sozzezione. Ma contemporaneamente, con una sorta di proporzionalità inversa, la signoria della natura sull'uomo è prontamente sostituita da quella dell'uomo stesso sui propri simili. È però sempre la pressione della natura che continua a farsi indirettamente sentire e l'oppressione si esercita mediante la forza, ed ogni forza attrae origine dalla natura. La forza non è sempre oppressione ma se e quando lo è, ciò dipende da condizioni oggettive ed intrinseche. Innanzitutto dipende dall'esistenza naturale di privilegi. Essi nascono quasi subito. Ad esempio, quando i riti religiosi, con cui l'uomo crede di conciliarsi la natura, diventano troppo numerosi e complessi, appare la figura specialistica del sacerdote, che da quel momento esercita sugli altri uno specifico monopolio, poco importa se illusorio o reale. Qualcosa del genere avviene, in fondo, per gli scienziati, i guerrieri, i mercanti. Ma il privilegio non basta a creare l'oppressione. Bisogna considerare la lotta per la potenza. Essa, innanzitutto, asservisce allo stesso modo chi comanda e chi obbedisce. È poi un circolo vizioso, il potente è tale perché possiede la potenza. Deve quindi costantemente adoperarsi per conservarla, e possibilmente accrescerla. Per fare ciò, il potente deve essere aggressivo ed oppressore in misura via via crescente tanto verso i rivali esterni quanto verso i propri subordinati. Da questa spirale si potrebbe uscire o eliminando l'ineguaglianza o instaurando un potere stabile ed equilibrato su chi comanda e su chi obbedisce. La seconda ipotesi è quella generalmente sostenuta dai conservatori di buona fede, ma, secondo Simone Well, questo ideale è utopico quanto quello anarchico. Ad ogni modo il desiderio di potenza è a rigore totalmente illusorio, poiché ogni vittoria recca il germe di una futura disfatta, per paradosso avrei la vittoria definitiva solo sterminando quei nemici, sui quali vorrei esercitare un dominio, evidentemente reso impossibile dall'estinzione degli ipotetici, dominati. Di altra parte, gli strumenti del potere, arme, denaro, attrezzature, riti magici sono sempre qualcosa di esterno al potere, per cui qualcun altro se ne potrebbe impadronire. Ecco perché ogni potere è, per definizione, instabile. In ambito sociale, questa considerazione determina esiti tragici. Poiché come abbiamo visto non ci è mai vero potere, ma solo un'insensata corsa al potere, tale attività è necessariamente senza termine, limite o misura. Nessun orrore sproposito è escluso a priori. I capitalisti, pur di conservare i propri privilegi, mandano di buon grado i loro figli a morire in guerra. Ecco perché la ricerca del potere rende tutti schiavi allo stesso modo, neppure il padrone è realmente salvo. Ancora più drammatico è constatare che queste riflessioni non valgono solo per i regimi capitalistici, ma per ogni forma di organizzazione sociale di cui si abbia storica esperienza. Simone Well usa il termine vertigine, come in ogni grande racconto epico, il protagonista vero è l'imperio della guerra sui guerrieri, e di riflesso su ogni uomo. Tutto viene sacrificato, nessuno sa dire perché. Si delinea con chiarezza il male essenziale dell'umanità, la sostituzione dei mezzi ai fini. Poco importa che ciò si manifesti come guerra, ricchezza, o produzione, il principio è lo stesso. Cos'è il potere, in fin dei conti? Solo un mezzo con cui si cerca di aumentare la forza naturale di un individuo, così esigua, se ci pensiamo. Ma l'uomo costantemente si pone come scopo supremo della vita la ricerca del potere, che in realtà è solo ripetiamo un mezzo. Da ciò tutte le crudeli follie che funestano la storia. Essa viene a coincidere con la storia dell'asservimento, che fa degli uomini oppressi ed oppressori, il puro zimbello degli strumenti di dominio che essi stessi hanno fabbricato e le umanità si degrada quindi fino ad essere cosa fra le cose inerti. Non vi è peraltro, via di uscita. Seppure gli oppressi prendessero coscienza della loro condizione, e ribellandosi sopprimessero le fonti dell'oppressione, i vari monopoli, come sopra descritti, verrebbero subito sottomessi da qualche raggruppamento sociale che non ha operato tale trasformazione. Se poi, ancora, questo non succedesse, immaginiamo una popolazione del tutto isolata, i nostri rivoluzionari morrebbero distenti, poiché certo non possiedono più quelle conoscenze che permettono di vivere in un primitivo stato di natura. Fortunatamente lo sviluppo dell'oppressione è limitato almeno dalla natura delle cose. È importante rilevare che se l'oppressione è una necessità della vita sociale non per questo a carattere providenziale. Non è vero che l'oppressione finirà quando sarà divenuta nociva alla produzione, o per la rivolta delle forze produttive vagheggiata dalle vtrochie. È utopia anche sperare che lo sviluppo delle forze produttive arrivi un giorno a rendere inutile il lavoro, e con ciò l'oppressione. O almeno, questo è in ogni caso incompatibile con quella lotta per il potere già descritta. Poiché la società è divisa in uomini che ordinano e uomini che eseguono, tutta la vita sociale è governata dalla lotta per il potere, e la lotta per la sussistenza interviene solo come un fattore della prima, anche se indispensabile. Radio AstralFly 2015, Exadeus Pro ripreso da Wikipedia. Tratto dal libro della Parigina Simone Well, 1934. Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale, le necessità del potere. Di conseguenza, occorre estendere una lista delle necessità essenziali ad ogni specie di potere. Ogni potere si sostiene con mezzi che hanno in ogni situazione una portata determinata. Poiché il potere di ciascuno è delimitato dalla sfera di effettivo controllo da parte sua, il potere. Il potere urta di continuo contro i propri angusti, limiti di controllo. Il potere ha come condizione un'eccedenza abbastanza considerevole nella produzione di mezzi di sussistenza, serve a nutrire chi si dedica a tempo pieno alla corsa al potere. Si rammenti poi che chi partecipa alla ricerca del potere, in qualunque ruolo, non ne ha consapevolezza. I potenti credono sempre di comandare per diritto divino, i sottomessi percepiscono l'oppressione come la manifestazione di un'entità soprannaturale. Vi è una religione del potere, tale per cui il potente ordina al di là di dove può, tale religione viene meno momentaneamente solo nei brevi istanti delle rivolte. Uno studio scientifico della storia dovrebbe cominciare con l'analizzare le reazioni esercitate a ogni istante dal potere sulle condizioni che i propri limiti gli assegnano oggettivamente. Anche se uno studio del genere forse è irrealizzabile, si può comunque dire che ogni potere, benché destinato ad estendere più possibile i rapporti sociali su cui si fonda incontra ad un certo punto un limite razionalmente insormontabile a detta espansione. Tuttavia, per quella ben nota corsa costante al potere, esso non si arresterà, andrà cioè oltre il proprio limite oggettivo, e pratico perciò ogni regime oppressivo porta in sé come un germe di morte, la contraddizione che lo condannerà. La contraddizione sta nell'opposizione tra carattere necessariamente limitato delle basi materiali del potere, ed il carattere necessariamente illimitato della corsa al potere in quanto rapporto tra gli uomini. Qualunque siano le fonti dalle quali gli sfruttatori traggono i beni di cui si appropriano, arriva un momento in cui tale procedimento di sfruttamento, dapprima sempre più produttivo man mano che si estendeva, diventa poi al contrario sempre più costoso. Le apparenti rivoluzioni celebrate dagli storici non sono che la sostituzione di un potere decotto con un altro che ha maturato la forza necessaria per manifestarsi. In ogni caso, queste trasformazioni appaiono sempre un tetro gioco di forze cieche, in cui l'unica continuità è la costante oppressione degli individui. Ma occorre ancora chiedersi quale legame sembra unire oppressione sociale e progresso nei rapporti dell'uomo con la natura. Sembra che l'uomo sia franchi dall'oppressione delle forze naturali soltanto asservendosi proporzionalmente a sé medesimo. L'uomo primitivo è schiavo in quanto ogni suo gesto è il riflesso di una precisa necessità naturale. Guardando l'uomo moderno sotto il profilo collettivo, egli sembra quasi totalmente libero dalla sozzezione del primitivo. Ma se esaminiamo la cosa sul piano individuale, scopriamo che il singolo è sempre schiavo, in particolare nel lavoro. Gli uomini non hanno mai smesso di essere spinti al lavoro da un'forza esterna e sotto minaccia di morte quasi immediata. Nulla in sostanza è mutato, semplicemente la potenza non risiede più nella materia inerte, ma nella società che il soggetto stesso forma con i suoi simili. Il cerchio si chiude anche misticamente, se prima era oggetto di adorazione la natura oggi si vennerà alla società. Perché abbiamo pagato così caro il dominio sulla natura? Quale potrebbe essere la condizione di minore asservimento possibile? In che modo, per quali vie, raggiungere tale risultato? A noi pare che il progresso sia sempre una fortuna, ma bisognerebbe riflettere sui costi che ciascun progresso presenta. Sappiamo bene qual è la condizione necessitata dell'uomo primitivo. Appena inizia il progresso, tutto diventa miracoloso, il comportamento umano appare sempre più svincolato dal pungolo naturale della necessità. Impariamo a dominare la natura, ma a prezzo di una divaricazione tra pensiero ed azione. Ancora più minaccioso è il coordinamento dei lavori. Consente alla collettività il raggiungimento di obiettivi largamente impossibili ai singoli. Ma consiste nel dividere gli uomini in due categorie, chi comanda e chi obbedisce. Un'organizzazione oppressiva è efficacissima nello spingere gli uomini oltre i limiti delle loro forze. E l'umanità si ritrova così ad essere lo zimbello delle forze della natura, nella nuova forma che il progresso ha dato loro e più di quanto non lo fosse nella preistoria. Radio Astralfly 2015, Exadeus Pro ripreso da Wikipedia. Tratto dal libro della Parigina Simone Well, 1934. Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale, benvenuti i vostri commenti su YouTube e sotto al video. Saluti da Exadeus Pro. Salve! Carissimi visitatori e panchetari, il bello del Ciber Paruk non è solo letteratura, foto, film e musica, ma una filosofia artistica e stupefacente sulle assurdità della nostra resistenza siderale e autodistruttiva, che ai margini degli impossibili ci dà non solo la sensazione allucinante, ma anche nuove percezioni oltre rimaginabile. Godetevi le storie di fantasmagoria senza pietà in un autoprocesso alla vostra coscienza, per crescere in un attimo solo e senza frontiere stranali e multiversali.